sarà lipstate in arte novella resce per fire records con questo vinile 180 grammi molto spartano come nello stile di alcuni vinili fire c'è da dire che il design di john foster è bellissimo e vale assolutamente l'acquisto all'interno un vinile 180 grammi che ripete nell'etichetta interna i disegni e i motivi ideati da foster davvero molto belli e curati busta di protezione del disco come in tutte le uscite fire in carta nera e morbida senza però rivestimento plastico interno antigraffio presente ovviamente la card con il codice per effettuare il download della versione mp3 dell'album tutto l'audio di toccalo è registrato grazie a zoom h6 in combinazione con il microfono shotgun della zoom sg h6 in combinazione con il microfono